Il processo breve è uno degli elementi di forza della nostra azione in questo momento del Parlamento, del Governo. Noi riteniamo che ci siano assolutamente una serie di situazioni che vanno semplificate e aiutate per tanti italiani che aspettano un giusto processo. Lasciamo alla piazza e a chi in qualche modo amplifica le contestazioni e il fatto di dire che sia una cosa a favore di qualcuno piuttosto che di altri. È un classico provvedimento fatto a favore dell'Italia che ha bisogno di essere rinnovata come tutta la giustizia.